718 piccoli atleti, 16 comuni partecipanti e tanta voglia di sport. Questi gli ingredienti delle mini olimpiadi di valle, evento giunto alla 21esima edizione che vide la luce 40 anni fa a porte e che, proprio qui, ritorna per la quarta volta da oggi a domenica 11 giugno. Giovedì 8 c'è stata la cerimonia inaugurale che ha visto sfilare tutti i comuni partecipanti guidati dai propri sindaci e seguiti da circa 80 atleti che presero parte alla prima edizione. Le cose sono meravigliose, bellissime ed è anche emozionante trovare dopo tanti anni insomma, da bambino avevo 14 anni e adesso essere qua come sfilare con i bambini, noi atleti ecco, come vecchio atleta, ma è un'emozione. Tutto in lungo, l'alcio del peso e salto in alto, arrivai in due ore un'argento insomma. Siamo molto emozionate, di aver vinto con lei la maratona e di essere ancora qua insieme La cerimonia è stata arricchita dalla performance dei ragazzi della società ginnastica acrobatica di Grugliasco, club campione italiano da 11 stagioni. Infine, l'arrivo della fiaccola e l'accensione del bracere, per il via ufficiale a un'intensa tre giorni di sport all'insegna dello spirito olimpico.